Un cordiale saluto e bentornati all'appuntamento col meteo per la Puglia. Anche questo mercoledì si rivelerà piuttosto perturbato su tante nostre regioni del centro e del sud in quanto in avvicinamento un'altra perturbazione atlantica che però sarà alimentata da correnti un po' più tiepide rispetto a quelle degli ultimi giorni. Di conseguenza avremo un generale aumento delle temperature su tutta Italia. In Puglia si prospetta una giornata autunnale con tante nubi, soprattutto tra la mattina e il pomeriggio. Avremo precipitazioni diffuse su quasi tutta la regione, soprattutto sul Foggiano, il Tavoliere, la Vat, il Barese, il Tarantino occidentale. Fenomeni un po' più disorganizzati invece sull'arco ionico leccese, il Brindisino. Quindi avremo piogge un po' più sparse, un po' più deboli rispetto al resto della regione. Poi comunque dalla sera avremo un graduale miglioramento su buona parte della Puglia. Il vento da sud-est scirocco a tratti sostenuto, ma regionalmente molto mossi sull'arco ionico, mossi su quello adriatico. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo appuntamento.